Tiro G Il contratto a quant'è? Ma da stessa fine Iguaino? Non ci credo La bella coltellata, come dire a tradimento? Io sono napoletana giuventina Perché è insignia, è insignia Abbiamo fatto uno scherzo brutto brutto ai napoletani Abbiamo fatto uno scherzo brutto brutto ai napoletani Ma vi dico brutto brutto Abbiamo mostrato loro questo titolo di giornale La Juve strappa il capitano a Napoli Lorenzo Insigne in bianco-nero per cinque anni Ovviamente è un fotomontaggio Una fake news Abbiamo beccato i tifosi del Napoli Sono tifoso del Napoli Orgoglioso Orgoglioso, sì Ma anche quelli della Juve Tiro Giro Utiragir Utiragir Gli giuventini sarebbero contenti I partenopei non l'hanno presa benissimo Vi faccio vedere un articolo che è uscito 35 minuti fa Sì E ci aspettavamo una cosa del genere Non ci credo Come non ci credo? Era proprio indossata la maglietta di Juvenza Per me è un giocatore fortissimo Mi dispiace purtroppo Dico la sicura verità Stai parlando con uno che questa città l'ama Strappa il capitano al Napoli In bianco-nero per cinque anni È ufficiale Eh sì Io sono napoletana giuventina Ha fatto bene Ha fatto la stessa fine di Guaima La bella coltellata Come dire Il tradimento Non fa dire Utiragir Sentiamo Utirogir Ha fatto una Sarà bianco-nero per cinque anni Ah questa è una nuova proprio Ma è americano Bello proprio a Napoli Andare alle altre squadre Ma alla Juve in signa Non ci va mai È che giocare a Napoli È rovinato quello lì Perché se va alla Juve E non me Perché con la DL Non abbiamo Non ha prospettive Evidentemente a lui Brutte Io ci sono rimasto male Che vada via lui Non come Eh beh Vuol dire a giro Ci potrebbe essere utile Il nostro Presidente Penso solo all'economia Al suo business Il Della Vrendizia è un mercenario Deve venire a giocare a Torino Torino Allora diventa un fuoriclasse Il Folletto di Fratta Maggiore Tradisce l'asinello Per la vecchia signora L'aspettavi? No Ma non è colpa sua? No Se vuoi si va a fare Di una parte Avete un mille euro Perché è insigne È insigne Lo sai no? Con il giusto fatto Che siamo nell'asinello Ma quanta conferenza? È bravo Ci tenavamo Al nostro Capitano Come la cantina Pesso Dice 3.000 Quei che faccio? Che devo mettere? Sicuramente Ci sarà anche Un fattore economico Secondo te Gli daranno Anche la 10 La Ma la 10 Non la 10 C'è un tradimento Il contratto A quant'è? Il Napoli È stato sempre Un tiro a G Non ci vuole credere No Non ci credo Infatti è uno scherzo Bravo È uno scherzo Mi piacesse No Infatti no È uno scherzo Vediamo così È uno scherzo Mi ero immaginato Che era uno scherzo Ma che non sei mai È uno scherzo Guarda Eh no Mi dispiaceva Ci sei È uno scherzo Ti sei rimasto male Dicela Un pochettino sì Andare ad altre squadre Ma non alla Juve Certamente non scegliere Perché tu hai la sua Arrubato Mi piacisse Eh Mi piacisse È uno scherzo